Andiamo benvenuto a Giovanni De Mare, Countier d'Italia di Allianz Perstein, a quale vogliamo chiedere come sta andando questo 2019? Questo 2019, vista la chiusura del 2018 sui mercati, è abbastanza volatile, si è ripresentato un po' di volatilità sui mercati, e questo 2019 è entrato con un piede giusto, con un mood giusto, i mercati si sono riposizionati in una parte positiva di ritorni, e anche Allianz Perstein con le strategie che sta promuovendo per cavalcare questi momenti di incertezza, con la loro volatility per esempio da un lato, sulla parte azionaria, o anche con una gestione attiva sulla componente europea, abbiamo dall'altro ricevuto un premio sul fondo Eurozone, quindi sull'area Eurozone, che è un'area oggi abbastanza sotto il focus degli investitori, proprio perché con le varie inquietudini che ci possono essere da un punto di vista geopolitico rimane sempre un'area difficile su cui andranno a trovare soluzioni di investimento o aziende capaci di liberare valore. E con questo lo stiamo perseguendo in tutti i portafogli, in gestione attiva, da un lato sulla low volatility, da un lato invece sulla parte sempre azionaria su strategie americane come l'American Growth, o anche su approcci globali, declinando, visto che siamo al salone di risparmio, e il tema SG è particolarmente interesse, seguendo questo approccio di environment, social e corporate governance nella selezione di aziende su cui andiamo a investire.